Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale La sanità del protocollo non piace né al centrodestra né ai sindacati L'aeroclub Fano vuole in Inghilterra per il centenario della RAF Buonasera cari telespettatori di Fano TV benvenuti a Occhio alla Notizia Il telegiornale che va in onda tutte le sere alle 20.30 qui dal canale 17 Sempre la cronaca in primo piano come sempre E scoperto dalle forze dell'ordine un tatuatore abusivo a Fano Sentiamo Dopo una segnalazione arrivata all'Asur di Fano Agenti del corpo di polizia municipale coordinati dalla dottoressa Annarita Montagna In collaborazione con il nucleo operativo della compagnia guardia di finanza di Fano E personale dell'Asur Hanno eseguito un sopralluogo in un'abitazione fanese Dove hanno rinvenuto materiale comprovante l'esercizio abusivo dell'attività di tatuatore In assenza però degli specifici requisiti previsti dalla legge In particolare gli agenti hanno ritrovato un'apparecchiatura elettromeccanica Con macchina e pistola, manipolo e puntale, aghi monouso, vaschette e cappucci per pigmenti Guanti e lamette monouse Oltre ad altro materiale inerente all'attività di tatuatore Il soggetto, uno sconosciuto però al fisco È stato sanzionato con un'ammenda che va da 1000 a 10.000 euro Per mancanza della segnalazione certificata di inizio di attività E con un'altra multa che va da 1000 a 10.000 euro Per l'assenza dei requisiti igienico-sanitari previsti dal regolamento Il sopralluogo effettuato nei giorni scorsi è la conclusione di un'attenta attività di indagine Portata avanti dal personale della polizia locale in questi ultimi mesi Anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici Mirati ad acquisire immagini e video Attraverso i social network Nonché attraverso controlli mirati sul posto Per accertare la localizzazione dell'effettivo esercizio abusivo Dell'attività di tatuaggi La scoperta del tatuatore abusivo rientra nell'ambito di tutta una serie di controlli Del corpo di polizia locale Che esegue costantemente a difesa della salvaguardia e della salute delle persone L'assessoreto ai servizi cimiteriali informa che partiranno la prossima settimana I lavori di sistemazione e riqualificazione dei cimiteri cittadini Affidati alla ditta Guidi Giovanni SRL di Sera Sant'Abbondio Per quanto riguarda la parte strumentale e alla dago elettronica di Fano Per quanto riguarda gli automatismi Nello specifico a Rosciano e Bellocchi Sarà ripristinata la guaina di impermeabilizzazione del padiglione 4 E saranno verificate le condizioni delle guaine e degli altri padiglioni Questo per evitare future infiltrazioni d'acqua Contestualmente saranno sistemati i servizi igienici e il cancello d'ingresso Al cimitero centrale invece saranno sostituite le lampade dei padiglioni ipogei E saranno effettuati gli interventi di consolidamento degli elementi in cemento armato Oltre che verificate tutte le controsoffittature Sistemazione dei cancelli e riprisi o dei regolari automatismi Anche nelle strutture di Roncosambaccio e Ferretto Saranno infine sistemati gli infissi in legno della chiesetta del cimitero di Rosciano e Bellocchi Andiamo a Fano sulle strade fanesi però dove Un incidente stradale autonomo questo pomeriggio Cerificato intorno alle 14.30 in Viale Piceno Per ragioni ancora al vaglio della polizia locale di Fano Una Fiat Multipra proveniente da Viale Piceno in direzione Pesero E' uscita di strada attraversando tutta la carreggiata e finendo nel fosso Dall'altra parte della strada abbattendo in parte una segnaletica stradale E' urtato violentemente un palo che ha fatto da perno Cosicché l'auto è rientrata nella carreggiata Il conducente, un uomo di 78 anni, residente a Camerata Picena E' rimasto lievemente ferito ma sempre cosciente L'uomo subito soccorso da un'ambulanza del 118 Che lo ha trasportato al pronto soccorso di Fano Per gli accertamenti del caso Sul posto due pattuglie della polizia municipale di Fano Per i rilievi di legge Per la regolamentazione della viabilità Particolarmente intensa sulla statale 16 Inevitabili Data l'ora agli incolonamenti e di rallentamenti In entrambi i sensi di marcia Fano, città dei bambini e delle bambine Un progetto riportato in grande auge Con tanti interventi Ieri i bambini erano nell'aula del Consiglio Comunale Vediamo Sentirsi ascoltati Percepire che c'è la disponibilità all'ascolto da parte dei grandi E' questa la chiave di svolta che ha permesso al Consiglio dei bambini e delle bambine di Fano Di poter esprimere con convinzione e perfetta interpretazione del ruolo Le proprie visioni e proposte per la città Nella quale sono cittadini come tutti Percorsi culturali adeguati ai più piccoli Una ristorazione mirata anche alle loro esigenze E accoglienza turistica calibrata per i più piccoli Idee chiare e ben precise sono state espresse ieri in Consiglio Comunale Dai bambini e dalle bambine Con grande convinzione nel ruolo nel quale sono stati chiamati a compiere la loro azione Presentato ieri anche il nuovo logo della città dei bambini e delle bambine Che fino ad oggi non aveva avuto una connotazione fanese Ma ora attraverso l'arco d'augusto stilizzato Rappresenta anche un brand da poter essere veicolato come promozione territoriale C'è proprio in atto una trasformazione Che sta portando anche risultati concreti Perché noi abbiamo sempre sostenuto che il progetto città dei bambini Non è un progetto per bambini ma un progetto di città E effettivamente con la crescita di queste attività Ma la crescita anche degli stessi bambini Perché ieri ci hanno stupito con le loro considerazioni Con le loro riflessioni ma anche spontanee Quindi non erano preparate Hanno dimostrato che c'è un lavoro che è vero Per cui veramente è una bella giornata Che ha visto anche la partecipazione di una folta delegazione Di bambini da Senigallia A dimostrazione che questo progetto è di forte interesse anche da altre città Bene, e rioccupiamoci del protocollo stipulato Tra il Comune di Fano e la Regione Marche sulla sanità Pare che però, ne sentiremo parlare ancora per diverso tempo Questo protocollo non piaccia né al centro-destra Neanche alle associazioni sindacali Il centro-destra però di grande inganno Sentiamo perché Secondo me è un grande inganno Perché si è sottoscritto un protocollo Che intanto non è stato autorizzato dal Consiglio Comunale Come abbiamo più volte detto al Sindaco Ma soprattutto perché non si firma nulla Si guarda al futuro più che altro Nel frattempo viene smantellato di fatto l'ospedale di Fano E nel futuro, in questo protocollo sottoscritto Ad esempio non si nascerà più a Fano L'ospedale diventerà in buona sostanza Una struttura della struttura unica Quindi un poliambulatorio Così come oggi Fossombrone e Cagli Lo stesso esempio Fossombrone e Cagli Diventerà anche Fano come Fossombrone e Cagli Quindi strutture che non hanno ad esempio Il trasfusionale, non hanno la possibilità di donare il sangue Non si potrà nascere a Fano Non ci saranno le strutture che in questo momento sono di base E che servono ai cittadini fanici Di contro cosa viene fatto? Viene regalato terreno pubblico ai privati Per fare una clinica privata Questo è ovviamente molto futuribile Perché ci vorranno anni prima di vederla realizzata Nel frattempo i posti letto da noi diminuiscono Come denunciano anche i sindacati Credo che quindi tutta questa situazione non vada assolutamente bene E anzi il grande inganno vada svelato E ai cittadini vada detta la verità E su questo aspetto Su quest'ultimo aspetto Che citava il consigliere Del Vecchio Ovvero sia la clinica privata Convenzionata nella zona di Chiaruccia Esprime un forte dissenso Anche la CISL di Fano Forte dissenso con un no deciso All'annuncio della realizzazione Della clinica privata a Fano Viene appunto dal sindacato della CISL Fanese La forte contrarietà alla proposta regionale Da parte del sindacato Deriva, si legge nel comunicato Che la sanità privata non è sempre fonte di efficienza Appropriatezza, economicità E qualche volta, continua il testo Non risponde neanche alle esigenze del territorio Si è impoverita negli anni L'offerta sanitaria pubblica da parte della regione Dimostrando anche poca trasparenza e reluttanza Nel fornire dati oggettivi sul costo del personale Né disponibilità al confronto Si legge nel comunicato Non riusciamo proprio a capire Conclude il sindacato nella sua nota Questa organizzazione che mira a risolvere Seri problemi sanitari dell'area Basta 1 E della regione Derogando però al privato convenzionato Una fetta importante di sanità Questo è il pensiero della CISL Rimaniamo in ambito sanitario però Per parlarvi di una ONLUS Che da tempo opera nel campo della ricerca E della promozione e della prevenzione E organizza Ha organizzato per il terzo anno di seguito Uno screening gratuito In ambito oncologico Per quanto riguarda i tumori della pelle L'associazione è la ASSO Che ha fatto questo terzo incontro In collaborazione con il Rotary Sentiamo Ora ASSO in collaborazione con Antipartners Organizza sempre ogni anno Un importante screening gratuito A vantaggio dei cittadini Sul fronte oncologico Ma in ambito dermatologico Anche quest'anno avete voluto ripetere Quest'iniziativa Sì anche quest'anno diciamo con grande successo Abbiamo ripetuto questa iniziativa Che diciamo è giunta la sua terza edizione E che diciamo quest'anno Giusto per dare qualche numero Ecco abbiamo registrato diciamo Un record rispetto alle precedenti edizioni Siamo infatti arrivati a raggiungere I 196 pazienti visitati Diciamo rispetto alle precedenti due edizioni In cui eravamo stati insomma un po' più bassi Quindi diciamo è un ottimo risultato Ecco ASSO non fa solo questo Fa tante altre cose Come conoscervi e come sostenervi? Allora sì Le iniziative di ASSO sono diverse Diciamo principalmente legate al conferimento di premi A studenti, a neolaureati meritevoli Che si sono distinti per studi sempre in campo oncologico Abbiamo poi Elargiamo anche i finanziamenti per progetti di ricerca E insomma sono numerose le iniziative Che vengono portate avanti dall'associazione E speriamo insomma che diventino sempre di più Che crescano negli anni E questo però potrà avvenire solo appunto Col contributo delle persone Che decideranno di darci E di concederci la loro fiducia Come hanno fatto adesso E speriamo che siano insomma sempre di più Bene, allora rimaniamo naturalmente sempre nell'ambito fanese Per la conferenza in programma Per l'opera Don Orione L'ultima prima della pausa estiva Sentiamo di che cosa si tratta Terzo appuntamento con dove io e te Siamo noi, viaggi nei luoghi della relazione In questa terza occasione ci sarà Giuliano Calza Che è un imprenditore ed è anche il presidente della IDP Associazione Italiana Direzione del Personale Giuliano parlerà di lavoro in modo particolare Lo farà con un convegno a cui seguirà un film E il film scelto da Giuliano Gli ultimi saranno ultimi Un film di Massimiliano Bruno Con una bravissima Paola Cortellesi E' un film dove appunto il tema del lavoro Il tema della fuoriuscita del lavoro diventa centrale Con grande forza e con grande intensità Vi aspettiamo domenica 10 giugno A partire dalle ore 17 L'appuntamento è al Cinema Masetti di Fano Ingresso gratuito, offerta Con questo terzo appuntamento si chiude il primo ciclo Di dove io e te siamo Noi, viaggi nei luoghi della relazione Il prossimo appuntamento sarà a settembre Fino a dicembre con altri relatori e altri film Cambiamo argomento, parliamo di aviazione Per una festa bicentenaria Dopo aver celebrato con successo Lo scorso 19 maggio I primi 100 anni dell'aeroporto di Fano Enzo e Valtero Miccioli I piloti dell'aeroclub Fano Volano in Inghilterra per festeggiare Un secolo di RAF La Royal Air Force di sua maestà Che ha in programma dal 9 all'11 giugno prossimo Una serie di attività molto speciali Per spegnere le sue prime 100 candeline Epicentro dell'evento E' la base di Cosworth Nello George Height Teatro della storica trasvolata nel 2015 Quando i piloti del Fano Team Volarono in formazione Dall'aeroporto di casa fino in Inghilterra Premiati per l'impresa Direttamente dalla RAF Ora l'invito ai piloti del Team Fanese Assume un valore particolare Considerando che essi rappresenteranno l'Italia Nelle celebrazioni della Forza Aerea Che ha cambiato il corso della Seconda Guerra Mondiale Unici piloti italiani presenti ufficialmente Quindi la missione sarà anche un'occasione Per ricordare il vicepresidente del club Fabio Filippini Recentemente scomparso E colonna della formazione Dove ricopriva il ruolo di numero 4 Ritorniamo in Italia Dopo questo volo oltre la manica A questo fine settimana Due manifestazioni di grande successo Animeranno il weekend fanese Alla finile abbiamo la festa del Fagiano e della Fragola Con il suo gustoso contributo di piatti A base di fagiano, di fragole E buona musica per grandi e piccini E a Lido per gli amanti dei motori Torna Sapori e Motori Con i suoi raduni di Harley Davidson, Ducati, Mustang e Ferrari Un tripudio di motori e buoni sapori del territorio Il prossimo 5 luglio 2018 Prenderà il via il pellegrinaggio regionale A Lourdes della sezione marchegiana dell'Unitalsi L'Unitalsi nelle Marche è presente con una direzione regionale a Loreto E con 15 direzioni territoriali impegnate quotidianamente Nel sostegno e nell'assistenza delle persone malate e disabili E che hanno organizzato iniziative finalizzate a promuovere il pellegrinaggio Quello a Lourdes si svolgerà dal 5 all'11 luglio 2018 E sarà guidato dal Vescovo di Senigallia Monsignor Francesco Manenti E questa era l'ultima notizia che chiudeva questa edizione appunto del nostro TG Vedete in sovraimpressione il nostro numero al quale potete contattarci Entrare in contatto con la nostra relazione 338 49 68 250 Per tutte le vostre preziosissime segnalazioni Però prima di lasciarci Vi voglio ricordare che dopo il telegiornale va in onda un'altra edizione di Frammenti La fanno di un tempo Poi in cucina con lo chef per annotarsi le sue gustose ricette E poi uno speciale dedicato alla decima edizione di Centrale Fotografia Grazie per essere stati in nostra compagnia Domani mattina puntualmente alle 7.30 Occhio ai giornali Buona serata e buon fine settimana a tutti voi Buon fine settimana a tutti